buongiorno a tutti oggi siamo in collegamento con la professoressa francesca gallina lei è docente associata di didattica delle lingue moderne e insegna linguistica educativa presso l'università di pisa e parliamo con lei perché il primo di giugno prossimo sono esattamente 50 anni dalla nascita di una importante associazione che appunto da 50 anni si occupa di problemi dell'educazione linguistica che è il GISHEL cioè il gruppo di intervento e studio nel campo della educazione linguistica e questa è un'associazione molto importante gloriosa direi perché era stata fondata 50 anni fa proprio da Tullio De Mauro che è un po' il padre direi della educazione linguistica democratica ecco senta professoressa voi il primo di giugno appunto farete questo questo convegno in cui parlerete dei 50 anni della vostra attività ma soprattutto parlerete di educazione linguistica democratica ecco perché voi ci tenete molto a questo aggettivo democratica non basterebbe dire facciamo educazione linguistica potrebbe bastare nel senso che si può fare naturalmente educazione linguistica anche in modo efficace efficiente però noi crediamo che l'aggettivo democratico non sia un'aggiunta anzi sia proprio nella natura della nostra idea parlo nostra nel senso di gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica per il GISHEL quel democratico è parte integrale no dell'idea di educazione linguistica perché è parte integrale perché non può essere omesso o separato perché l'idea dell'educazione linguistica democratica è quella di realizzare il dettato costituzionale quell'articolo 3 che diciamo mette tutti sullo stesso piano da tutte le stesse opportunità cioè l'idea è quella di non lasciare indietro nessuno di dare a tutte le bambine a tutti i bambini possiamo dirlo anche a tutti gli adulti no che possono avere ancora bisogni formativi hanno bisogni formativi a fronte di ovviamente svantaggi linguistici che ancora permangono nella nostra società e l'idea è proprio quella di essere fortemente democratici cioè di non lasciare indietro nessuno ecco perché per noi non esiste c'è non è la nostra idea di educazione linguistica di educazione linguistica to cure ma è sempre educazione linguistica democratica d'altra parte uno dei documenti fondativi proprio del vostro pensiero e del vostro lavoro è quello delle famose dieci tesi per una educazione linguistica democratica che vennero adottate proprio da voi quasi nei primi anni insomma della nascita del della vostra associazione giusto a quando risalgono le dieci tesi le dieci tesi dunque sono frutto di un lavoro di mesi naturalmente perché è stato anche frutto di un lavoro collettivo di stesura del testo di elaborazione di idee nella loro forma attuale le dieci tesi Gissel sono state presentate il 26 aprile 1975 quindi diciamo un paio d'anni dopo la nascita ufficiale dell'attività del Gissel tra l'altro mi piace ricordare come siano state presentate all'interno del CIDI perché fin da subito c'è stata una collaborazione tra il Gissel e il CIDI ovvero tra associazioni accomunate dal rilievo insomma dalla passione anche per l'educazione in generale l'educazione linguistica in particolare quindi sono nate un paio d'anni dopo e rappresentano effettivamente il manifesto del Gissel e direi anche il manifesto dell'educazione linguistica italiana perché pongono una serie di principi di educazione linguistica democratica che ancora oggi hanno grande attualità e grande vitalità. Senta professoressa 50 anni fa quando il Gissel muoveva i suoi primi passi nella scuola italiana però non c'erano i tanti alunni non italofoni che invece abbiamo oggi quindi questa questo ingresso di tanti alunni stranieri o comunque non italofoni dentro la scuola che cosa comporta dal punto di vista dell'educazione linguistica e dell'educazione linguistica democratica in modo particolare cosa significa? Allora ovviamente ha un grandissimo impatto però mi consenta di fare una piccola premessa 50 anni fa non avevamo bambini e bambini con background migratorio ma certamente avevamo bambine e bambini dialettofoni cioè bambini per i quali l'italiano non era la lingua abitualmente usata per cui nella realtà il nostro paese è congenitamente plurilingue lo è sempre stato non è una scoperta degli ultimi vent'anni a fronte dell'arrivo ovviamente di flussi migratori di catene migratorie ecco a questo proposito professoressa proprio a Tullio De Mauro dobbiamo anche una indagine molto accurata proprio sull'uso del dialetto anche a scuola certo diciamo che con Tullio De Mauro con quest'opera insomma capitale che è la storia linguistica dell'Italia Unita che era uscita insomma già negli anni 60 sicuramente mette in luce il fatto che la scuola non era poi così italianizzata come uno si aspettava e che le difficoltà nel processo di italianizzazione e anche i tempi necessari no per maturare un processo di conquista di consolidamento della lingua italiana nell'uso e degli insegnanti e degli allievi insomma era ancora in corso non molto tempo fa quindi di fatto la situazione è un po' speculare all'epoca avevamo bambini dialettofoni oggi abbiamo bambine bambini che conoscono altre lingue altri sistemi linguistici a volte anche molto lontani dall'italiano e questo forse può a volte complicare naturalmente il loro percorso di conquista del dell'italiano però di fatto la situazione è abbastanza speculare diciamo speculare e non c'è dubbio che già nelle dieci tesi gischel si sottolineava quanto sia importante tenere conto di quello che è il retroterra linguistico e culturale no di chi sta dentro una classe questo principio valeva allora questo principio vale ancora oggi a fronte appunto della grande presenza di bambini inarrivati ma anche di bambini di seconda generazione o che vivono altre situazioni diciamo assimilabili ecco a quella della migrazione. Le dieci tesi sono ancora adatte diciamo così a descrivere la situazione in cui si lavora oggi nelle scuole oppure voi pensate che ci sia qualche punto qualche aspetto da modificare da correggere da ampliare da approfondire ecco non da stravolgere ovviamente ma ecco ci sono degli aspetti che vanno approfonditi? Diciamo che le dieci tesi stabiliscono dei principi no quindi i principi tendenzialmente hanno un valore sicuramente più a lungo termine della regolina imposta o del provvedimento insomma imposto a fronte di una situazione peculiare quindi se devo rispondere alla domanda oggi le dieci tesi ci spiegano come come si sta in classe no purtroppo questo non lo posso dire in molti casi perché le dieci tesi ci sono delle ricerche che lo mostrano non sono poi così familiare a tutte e a tutti i docenti che oggi stanno nelle nostre classi indipendentemente dall'ordine ovviamente grado scolastico però certamente le dieci tesi Gissel ci possono dare oggi ancora delle indicazioni di massima dei principi che poi devono ovviamente diventare applicazione concreta no all'interno della vita quotidiana in classe per gestire classi che al loro interno presentano bambini con bisogni diversi a fronte anche di elementi nuovi penso per esempio all'impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita quindi bambini insomma quindi questo ovviamente non era stato tematizzato nelle dieci tesi Gissel ma i principi su come affrontare la pluralità linguistica la variazione di lingue di linguaggi la multimodialità ecco le dieci tesi Gissel già tracciano la strada in tal senso senta professoressa ma intanto mi dica una cosa ma secondo lei oggi il mondo dell'associazionismo e in particolare dell'associazionismo professionale perché di questo stiamo parlando che cosa può fare per aiutare davvero gli insegnanti a lavorare meglio all'interno della scuola e anche a lavorare meglio fra di loro e questa è un'ottima domanda nel senso che è un interrogativo che mi sono posta da quando ho avuto l'onore no di diventare segretaria del Gissel cioè noi vorremmo coinvolgere più insegnanti ma è lecito che un insegnante si chieda perché dovrei no impiegare il mio tempo le mie energie le mie risorse all'interno di un'associazione la risposta l'ho trovata una settimana fa parlando con delle insegnanti per una ricerca che stavo facendo per un convegno sulla formazione degli insegnanti di scuola primaria e queste maestre mi hanno detto già in servizio alcune insomma con un lungo periodo alle spalle beh perché la verità è che noi impariamo molto di più parlando con le colleghe piuttosto che facendo chissà quale corso di formazione allora se è vero che molto know how molta diciamo conoscenza può derivare dallo scambio con il mio pari quindi con il collega con la collega è evidente che far parte di un gruppo di un'associazione professionale ti mette nella condizione di scambiare idee esperienze buone pratiche spunti da rielaborare su cui insomma tornare naturalmente per adattarli anche al proprio stile di insegnante perché ovviamente ognuno dopo ha bisogno no di trovare un abito su misura quindi da questo punto di vista ancora oggi la partecipazione alle associazioni è quel quid in più che nell'isolamento ce l'ha insegnato bene la pandemia noi non possiamo ovviamente trovare e ottenere quindi da questo punto di vista vorrei diciamo lanciare un messaggio soprattutto ai più giovani l'associazionismo non è una perdita di tempo è un'opportunità è un'opportunità di confronto di scambio e di arricchimento e già questo insomma dovrebbe incentivare la partecipazione ma allora questo che lei dice però mi fa sorgere anche questa osservazione allora vuol dire che la formazione universitaria la formazione che può dare l'università ai giovani che intendono avviarsi alla professione di insegnante da sola non basta cioè quindi ci vuole non soltanto la formazione teorica accademica all'interno dell'università ma ci vuole anche qualche altra cosa in più quindi ci vuole anche una collaborazione fra università e associazioni e così io credo fortemente di sì e lo dico un po' male in cuore da professoressa universitaria quello che i miei studenti hanno l'opportunità di imparare di studiare di conoscere all'interno del percorso universitario non è sufficiente per poter stare in classe sia in una fase iniziale parlo proprio del primo approccio però io direi che c'è anche un'altra questione che è quella dell'aggiornamento no nel senso non è che una volta che sei laureato sei a posto per i prossimi 50 anni c'è bisogno di aggiornarsi di studiare c'è bisogno di quel connubio che fa parte dell'identità del gisce l'intervento e lo studio c'è bisogno di studiare e di riportare ciò che si è studiato dentro all'intervento didattico quindi da questo punto di vista sono come due facce di una stessa medaglia non possono essere in alcun modo separate e di tutto questo immagino parlerete il primo di giugno nel corso di questo convegno che si preannuncia anche piuttosto impegnativo perché è una giornata intera di lavoro a Roma presso la biblioteca nazionale esattamente quindi voi contate che durante questo convegno riuscirete di ammettere appunto anche delle nuove proposte guardi non so se riusciremo a fare delle proposte concrete perché naturalmente in una giornata a volte si fa in tempo soltanto a porre dei problemi e immaginare delle prospettive non a certo elaborare delle prospettive concrete però questa giornata se da un lato ovviamente celebra i primi 50 anni di attività del gisce nella realtà l'abbiamo pensata più come momento di ulteriore riflessione no su temi che per noi sono fondanti cioè che cosa vuol dire educazione linguistica democratica oggi cosa ha significato nei questi primi 50 anni che cosa può significare nel futuro quali possono essere i capisaldi della formazione degli insegnanti perché per noi questo è un tema davvero cruciale e anche direi quale può essere il ruolo delle associazioni oggi ecco perché abbiamo invitato insomma al nostro evento che durerà appunto tutto il giorno e che sarà anche riconosciuto come attività formativa perché ci piacerebbe che anche i docenti di scuola fossero presenti e partecipassero proprio perché a nostro avviso soprattutto oggi c'è veramente bisogno di aggregazione di ritrovarsi attorno a un tavolo guardarsi in faccia e insieme affrontare sfide e opportunità dell'oggi e del domani bene grazie professoressa ovviamente i nostri migliori auguri per questo convegno che ci auguriamo possa essere fruttuoso per voi e anche per la scuola italiana più in generale quindi grazie ancora della sua disponibilità e molti auguri di buon lavoro per il primo di giugno grazie mille grazie per l'invito e per gli auguri e per chi vuole vi aspettiamo a roma certo